E' la che mi sembra un tipo strano, ma che più strano non posso rimanere, E' la sua perfidia che mi resevano, e' la sua perfidia che mi fa piacere, Quando chiedera parli la fremente nel suo seno, pare a schizzare tutto il suo veleno. Vinperà, vinperà, il braccio di golei, che oggi ha distrutto tutti i sogni miei. Quei simbolo, l'atroce simbolo, vinperà, sua mamma, la città. Se mia moglie è come me, e cammina come la marlè, E' mia figlia tutto per cambià, gira il mondo e gira il mondo. Queste sono le lettere che io, Vincent Van Gogh, ho scritto a mio fratello Theo. Ne ho scritto molte, cioè ne sono state ritrovate soltanto 780, ma hanno scritto molte di più. E' che in un certo periodo della mia vita, le lettere che scrivevo a mio fratello, non potevano essere inviate, e venivano lette soltanto dai dottori e poi distrutte. Essere molto sensibili, anche profondamente, a tutte le bellezze della natura, non significa essere religiosi. Cioè, sebbene io ritenga che le cose siano strettamente connesse l'una con l'altra, però tutti sentono che nella natura c'è qualcosa. Qualcosa che è religioso. E chi più chi meno, chiaramente. Ma pochi sentono che Dio è proprio spirito nella natura. E che si appartiene a quella natura in cui c'è Dio. Ecco, io questo, come Vincent Van Gogh, lo vedo. Io credo che sia semplice da vedere perché, se uno si concentra molto bene, ad esempio guardo quando ha un campo di fiori o quando guarda uno stormo di uccelli, e lo vede. Bisogna concentrarsi un po'. Bisogna concentrarsi un po' di più. Certo, non è da tutti concentrarsi. Non è da tutti. Ma è da Vincent Van Gogh. E allora, caro Teo, ti racconterò come io vedo Dio. Caro Teo, sinceramente, nonostante tutti i dolori, tutte le decisioni e tutti gli errori che si fanno, nonostante tutti gli errori, nonostante tutti i dolori che si provano, bisogna essere odaci. E allora io con coraggio, caro Teo, voglio dipingere una grande tea. Lo so, i miei quadri non si possono vendere, lo so. Teo, non è colpa mia, non si possono vendere. Me l'hai spiegato tante volte. Non è possibile per me dipingere altro che è un fatto di Dio. È una faccenda con Dio. Io non posso tradirlo, no? E che faccio allora? Me l'ha promesso. Il fondo sarà fatto soltanto da sei figli di rossi, di vero e deperolesi, che si deve stendere, non importa, caro Teo, costa moltissimo, ma non importa il fondo del quadro sul quale balleranno giallo, sul quale lancerai il giallo del mondo. perché sei tutti i grossi. Fratello, servono grossi. Non fare come l'altra volta, non darmi tutti i piccoli, servono tutti i grossi, di verde e verorese. E so, ai lati, per fare contorno alle ombre. Vieni tutti i grossi, di blu di Prussia. Senti come scivola. È un blu denso. Quando lo metti sul quadro non si impasta sugli altri. Vieni via. Ogni volta che lo tocchi, vieni via. Io lo so che non mi potrai mandare niente di tutto questo. Per questo te lo racconto. Almeno puoi pensare cosa sarebbe il quadro, se riuscissi a farlo. Lo so, tu mi dici sempre, i tuoi quadri costano troppo. Per farli ci metti molto tempo e per farli ci metti troppo colore, troppi oli che costano tantissimo. Non si possono vendere i tuoi quadri. È impossibile venderli. Però, caro fratello, io non ti chiedo di venderli. Vorrei soltanto esporli. Vorrei soltanto che le persone potessero almeno vederli. Invece i miei quadri finiscono accatastati. Li ho visti in fondo del magazzino. E li ho visti anche nella camera dei dottori. Anzi, caro fratello, in ospedale devi sapere che io dipingo la notte e la mattina dopo viene tolto il quadro. Allora io la notte dopo li dipingo. E la mattina dopo viene tolto il quadro. Allora io dico soltanto almeno voglio finirlo. E quindi dipingo tutta la notte. Più me lo tolgono, più dipingono e mi dicono te lo vogliamo perché non devi più dipingere. Più me lo tolgono, più dipingo. Perché voglio che almeno lo portino via finito. Perché magari c'è la speranza che qualcuno portandolo via se lo porti a casa e lo guardi. non succederà. Quando Carmino è in mezzo alla strada mi sento fuori nuovo perché le persone non capiscono quello che fanno. ogni passo che faccio mi dicono quello che si deve fare. E sto ancora andando a farlo. guardate al museo. Aspettate che va via il guardiano. E leggate il quadro. Lì c'è il sapore di tutto il reale. Lì c'è il sudore di chi l'ha dipinto. Ci stanno i suoi colori che sono fatti a mano. Che sono fatti giorno per giorno, minuto per minuto. Certo se passa il guardiano. E vengono il mio cuscino. Divengerò quel cuscino perché nella mia stanza da letto non c'è. E da quando mi hai fatto venire qui io lo riposo. Il dottore entra. Guarda i miei quadri. E dice. Lei è molto bravo. Pizzo mandato. Lei è davvero molto bravo. Però crediamo che la vittura le faccia male i pensieri. Dopo un po' mentre questa discussione prosegue camminando sulla spiaggia. All'improvviso uno dei due fratelli. Quello sporco di colore. Indica e dice. Fratello. Fratello ecco. Ecco come io voglio essere. Io voglio essere proprio così. Voglio essere come quel cane arruffato. Quel cane arruffato sulla spiaggia. Lo so i miei quadri non si possono vendere. Me l'hanno spiegato tutti. Sono andato alle gallerie. Sono andato a parlare con gli amici. Non si possono vendere. I miei quadri non si possono vendere. Ma io lo so che prima o poi. Da qualche parte. Ci sarà una personale di Vincent van Gogh. No. 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 Grazie a tutti